L'associazione ha bandito adesso un concorso di medicina dello sport denominato Città di Pineto, una selezione cui parteciperanno 67 ragazzi delle seconde e terze classi della scuola media Giovanni XXIII, con prove relative a tematiche indicate dalla scuola di specializzazione di medicina dello sport dell'Università di Chieti. Franco Tartaglia, presidente di Pineto Cultura, ha avvicinato alla manifestazione importanti personaggi del mondo sportivo, fra cui il professor Leonardo Vecchiette, ex medico della Nazionale di Calcio e direttore della scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università d'Annunzio. Coinvolte anche l'associazione medici sportivi della provincia di Chieti, la federazione provinciale del CONI, il comune di Pineto, l'amministrazione provinciale e numerosi campioni sportivi. I ragazzi che vinceranno il concorso otterranno dei premi e degli attestati di partecipazione e una commissione creata per il concorso renderà noti i risultati il 13 dicembre prossimo. La morte di Mariano Martellini, di cui stiamo rivedendo le immagini sul campo, non sarà così dimenticata, ma coinvolgerà i ragazzi e non solo loro nell'esame dei problemi della medicina sportiva, generalmente trascurata dall'opinione pubblica.